Questa l'abbiamo fatta io e Maurino ad Agrate Brianza, praticamente con un registratore Roland fantastico, voce, chitarra, dopo gli abbiamo messo sopra un'altra chitarra, senti che figata. Ho compito dai dettami questa versione e non mi dire che sei ancora sotto per quella bambina, lascia stare e ne parliamo domattina. Sabato sera da me non ci sono i miei o ma com'è che quest'ora non passa mai, la campanella è la cosa più bella che fuori ci porterà. L'autogestione tranquilli che ci sarà, certi argomenti richiedono serietà, giovani attivi e collettivi per non lasciarsi mai. Dimmi cosa c'è da fare per domani, un'interrogazione è un altro compito dai dettami questa versione e non mi dire che sei ancora sotto per quella bambina, lascia stare e ne parliamo domattina.